Torna archeologia giunta ormai alla sedicesima edizione, ecco sabato 8 aprile il primo di due appuntamenti. Sì, al Castello San Giorgio come sempre alle ore 17, è l'occasione per la città per avere delle informazioni sugli ultimi studi nel campo archeologico e storico da dei luminari, da professori, dirigenti di cantieri archeologici, in prima persona avere notizie fresche insomma. Quindi ogni anno cerco di far venire grandi nomi con novità. Il primo appuntamento sabato riguarda, il titolo è Dal Neandertal all'Hobbit, idee fossili controcorrente, perché viene ripercorsa dal professor Vincenzo Formicola la storia delle scoperte fossili sull'uomo e come hanno scandalizzato gli ambienti scientifici ottocenteschi creando scalpore il Neandertal che era questo uomo imparentato con la scimmia quando fu scoperto creò scandalo. Ma queste grandi scoperte hanno cambiato la nostra storia, fino all'Hobbit che è una scoperta recente in Indonesia di un omino bassino con i piedi enormi e che quindi cambia completamente tutti i punti di vista sull'evoluzione dell'uomo. Quale sarà invece l'argomento di un secondo appuntamento che avrà luogo giovedì 20 aprile? Sì, giovedì 20 aprile invece ho invitato Andrea Camilli che è il direttore degli scavi di Pisa delle navi romane che hanno trovato già a partire dalla metà degli anni 90 e hanno scavato per quasi 20 anni hanno trovato praticamente un porto sul fiume Serchio che passava vicino a Pisa, un porto fluviale con tantissime navi in un stato di conservazione incredibile, cioè tutto il legno, tutti gli oggetti dell'equipaggio, tutto il carico tutti i resti possibili sono stati ritrovati e ha fatto ovviamente scalpore questa scoperta. Oggi ne parliamo per la prima volta alla Spezia anche perché è stato inaugurato il nuovo museo delle navi di Pisa presso gli arsenali Medicei di cui il direttore è sempre Andrea Camilli e quindi vedremo poi se riusciremo con chi interverrà anche a organizzare un gruppo guidato dal dottor Camilli a visitare scavi e museo.